Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Mite e Misteri SCP Oggi andiamo a leggere SCP-046 italiano, chiamato anche Ictus, classe dell'oggetto Euclid Procedure speciali di contenimento SCP-046 italiano è contenuto in una piscina del parco acquatico dedicato alla televisione di studio del sito Nettuno Situato il più lontano possibile dal porto dell'isola d'appoggio Per evitare altri incidenti con SCP-50 italiano Alcune attività ed estramenti simili a quali dedicati ai delfini sono utilizzati per mantenere SCP-046 italiano in stato di buona salute Psicologica per evitare eventuali comportamenti depressivi Le velocità sono da pulire ogni due giorni tramite un guardino da vesca Data la sua natura SCP-046 italiano non necessita di nutrimento Eventuali esperimenti o analisi vanno richiesti al dottor Lorenzo Trentini Responsabile del contenimento dell'entità Questa è una rappresentazione artistica di SCP-046 italiano Descrizione SCP-046 italiano è un fosse di palarodon Un genere apparentemente all'ordine icticosauria Misurante 1,4 metri Lunghezza che si comporta come se fosse vivo Le ragioni per cui non si scompone nonostante l'assenza di articolazioni e muscolatura E sia capace di muoversi di nuotare Nonostante l'assenza di aerodinamismo Sono ancora sconosciute L'entità non necessita di alimentarsi Ciononostante caccia regolarmente piccoli pesci e calamari Per istinto venatorio o per gioco Non sempre li uccide Lasciandoli spesso fuggire I pesci e calamari uccisi non vengono mangiati E i loro corpi ricadono sul fondo della piscina Tali comportamenti sono resi difficoltosi dalla suonatura scheletrica Ma SCP-046 italiano appare incurante o non conscio della sua condizione SCP-046 italiano non è a stile ed è molto curioso E si avvicina spesso ai cercatori o alle imbarcazioni Tuttavia non si lascia toccare ed estrarre dei campioni del suo corpo Può rivelarsi difficile Fin dal suo primo contenimento dal sito cerere È appasto chiaro che sebbene SCP-046 italiano Abbia in genere un comportamento molto calmo Esso può comportarsi in maniera energetica Se opportunamente stimolato Come movimenti bruschi nell'acqua E grossi oggetti quando si muovono Ipotesi formulate da alcuni ricercatori sia del sito Nettuno che del sito cerere Primo sito di contenimento dell'entità Sostengono che questi atteggiamenti siano un residuo d'istinto predatorio dell'animale SCP-046 italiano agisce infatti come un normale animale acquatico Nonostante il danno alla pinna dorsale menzionato in precedenza Recupero SCP-046 italiano è stato scoperto nel marzo 2014 Quando l'equipaggio di una nave commerciale italiana Ha notato uno scheletro gigante Che seguiva la loro immarcazione I marinai hanno lanciato oggetti per scacciarlo Provocando il danno alla sua pinna dorsale Nonostante le successive spedizioni per indracciarlo SCP-046 italiano è risultato irreperibile Fino all'ottobre 2017 Quando venne avvistato ha fotografato dall'equipaggio di un peschereccio Le immagini vennero postate sui social media E allertarono la SIR prima In seguito SCP-046 italiano Venne individuato e catturato abbastanza facilmente E' contenuto al sito cerere per i primi accertamenti Per poi essere trasferito al sito Nettuno Nel maggio 2018 A seguire l'intervista del capitano della nave Per effetto del 2014 Da Daniele Lorenzini Capitano dell'unità della nave 1 Del sito Nettuno Nota più di pagina Gruppo di rettili marini Che visse durante il mesozoico Ok Se il video vi è piaciuto Mi lascia un mi piace Ed iscrivvi al canale Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao